siamo al mulino di roletto ronchi fuori il mulino che macinava in tutta la valle per fare farina di polenta questa parte è rimasta come zona museale e di fronte c'è un piccolo mulino nuovo in gestione agli alpini che macina anche per i privati a pochi centesimi al chilo porti il tuo grano e non maci un po' la parina di polenta buon lavoro bravi Ah bello che si tenga ancora infizio è